Musica Potente appara ragazzi, qua Vax, l'ho giunicato, oggi sono da sole e sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi è un nuovo squad builder Sto rifacendo quest'intro 4 volte perchè non mi va mai bene Comunque sarà uno squad builder veramente particolare e stramagico Perchè infatti è costituito da giocatori che mi avete richiesto voi sulla pagina facebook O meglio, non è andata proprio così Perchè infatti vi avevo chiesto sulla pagina facebook che giocatori avreste voluto vedere in questo mio nuovo squad builder E i giocatori più richiesti erano 3 Il primo era Sergio Aguero Il secondo era Mark Royce E il terzo, Dulcis in fundo, ma non meno importante, era Sergio Ramos Mamma mia che 3 giocatori Che squadra potremmo farli uscire Ci ho pensato e oh mio dio è venuta fuori quella che voi starete per vedere Comunque vi ricordo che prima di iniziare vi volevo ricordare di bastare la FIFA Quando stessi siete interessati a comprare i credi di FIFA E poi secondariamente vi volevo ringraziare Ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Sto vedendo proprio che Io ci metto ovviamente come sempre del mio Ma voi ci mettete del vostro E non c'è cosa più bella Di vedere in un video tanti mi piace e tanti commenti Quindi se potete mettete proprio così tattico Un bel commento, un bel mi piace anche adesso Comunque io direi anche di ciancio bandare le bande E partiamo allora in porta Utilizzo sempre e solo lui Perché è sempre solo lui? Perché come ho già detto miliardi di volte Lo ritengo il giocatore o meglio il portiere più forte di FIFA Infatti sto parlando di Manuel Neuer Valutato tanti e pagato la bellezza di 57000 crediti Di rivalo alla stragrande Soprattutto se gli aggiungete la canonista e il guanto E cioè ragazzi un portiere con 4 stelle di mossa abilità L'avete mai visto? È possibile però anche no Era un altro portiere con 4 stelle di abilità Passiamo invece all'altra parte della difesa Infatti da una parte o meglio al centro Utilizzo Dante come al solito E come altro difessore centrale Sempre il solito e magico Boateng E ragazzi vabbè io ormai non ho più niente da dire Ho già detto tutto ciò che dovevo dire di questa coppia Praticamente in ogni mio squad builder in cui c'è la punta di lega Ci sono questi difensori Ma perché? Perché come credo voi possiate aver capito Mi piacciono e ovviamente sono veramente forti Passiamo invece al Al centro campi Ai due centrocampisti difensivi Infatti da una parte utilizzo Gundogan Perché Gundogan? Anche perché se voi ci fate caso Non è che abbia delle statistiche da difensore Però ragazzi vi assicuro che è un giocatore veramente completo Un CDC con 4 stelle di piede debole 4 stelle di mossa abilità Con dei work rates alto normale Con 82 velocità Con 73 di tiro 84 di passaggio 86 di ring 74 difese 62 colpi di testa Non si trova dappertutto Infatti secondo me Innanzitutto c'è da dire che Gundogan l'ho pagato 18.000 crediti E secondo me gli vale alla stragrande Ho fatto con lui 24 partite E mi ha fatto solamente 3 assist e 2 gol Ma vi posso assicurare Che si trova sempre al posto giusto Nel momento giusto Poi vabbè l'altro CDC Non serve chi lo dica Perché voi vedete CDC e Liga BBVA E credo che Se ormai voi siete istinti abbastanza attivi Sappiate già di chi io sto parlando Infatti sto parlando del magico Casemiro Con la quale ho fatto 159 partite 9 gol e 41 assist Che per un CDC non è affatto male Poi voi dite Madonna È oro non raro Ma che schifo In realtà no ragazzi In realtà è veramente forte Se avete la possibilità di comprarvelo Anche credo che voi ce l'abbiate Perché l'ho pagato 3500 Sette mesi fa Quindi ora ne costerà anche mille Provatelo 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 Perché è veramente buggato Passiamo invece all'esterno resto L'esterno resto Che utilizzo Sempre il magico Di Maria Infatti io reputo Come migliori esterni di questo gioco Reputo i migliori esterni di questo gioco Di Maria E Jesus Navas ragazzi di Maria Giocatore valutato 86 con 90 di velocità E 78 di tiro 4 stelle di possibilità Solamente 2 di 2 di piedi debole Ma work rates alto alto 21 partite 5 gole 4 assist Anche lui secondo me è veramente forte Popo non è che fa gli assist Ma vi smarca dei giocatori In una maniera paurosa Cioè dovete provarla proprio questa squadra E poi ecco Non vi ho detto una cosa Quanto costrà L'andremo a pagare Sui 300.000 crediti Quindi anche Una squadra abbastanza accessibile a tutti Ora come ora E poi come ho già detto E' costituita da giocatori abbastanza Tattici Infatti Adesso non l'ho intitolata Si chiama ancora Sala Engie Ma per me E' un'ibrida Very cool Significa molto faiga Perché infatti C'è a giocatori che spesso Tutti vogliono utilizzare Quali Royce Aguero Ma anche Sergio Ramos Comunque Torniamo a parlare della squadra Come COC Utilizzo ragazzi Non utilizzo infatti De Bruyne Magari qualcuno di voi Stava dicendo Beh Ovviamente utilizzerà De Bruyne Ma ragazzi Oscar Oscar valutato 82 Quindi la sua versione non upgrade Perché se non lo sapete Oscar Ha fatto uscire un'altra carta Di Oscar Che appunto È valutato 84 Che io ho provato Ma sinceramente Non mi sembrava molto forte Ma ragazzi Questo Oscar Ha un qualcosa di magico 17 partite 7 gol e 4 assist Non sembra tanto Ma vi posso assicurare Che da quando l'ho riutilizzato Perché infatti Non è che con questa squadra Ci ho fatto 17 partite Questa squadra Ne ho fatte 3 No Ne ho fatte 2 Cioè Da quando l'ho utilizzato In questa nuova squadra È fortissimo Ve lo posso assicurare Non vi ho fatto vedere Le statistiche di Royce Comunque Royce 5 partiti 0 gol E 3 assist Però anche lui 46.500 credit Vi posso assicurare che li vale E poi Il Kunaguero 2 partite 7 gol E un assist Ragazzi È un qualcosa di fenomenale Ma soprattutto Se l'ho affiancata De To Beh Non so se voi vi ricordate Ma qual era la mia logica Qual era la mia filosofia Su questo FIFA Che se si utilizza Un modulo Con un attacco a due Bisogna avere Uno dei due attaccanti Molto agile E dunque anche veloce E poi l'altro Con un fisico Che abbia un po' Diciamo più di forza Con un fisico Un po' più grosso Da armadio In modo che possa Aiutare Facendo la torre Oppure aiutare appunto Lanciando Il compagno E ragazzi E To È il giocatore D'eccellenza Volendo potete metterci De Bruyne Come COC Come ATT In questo modo Potete utilizzare Benteche Però come ci diceva Il posto di Gundogan Dovrete utilizzare Quello del Wolfsburg Belga Che adesso Di cui adesso Non mi ricordo il nome Comunque ho utilizzato così Perché sapete Che Tor Mi piace un macello 71 partite 56 gol E 42 assist Oh mio dio Quindi è veramente forte Ragazzi Questa squadra È un qualcosa Di illegale Ci ho fatto tipo Due partite Nella prima Ho vinto 2 a 1 Se non sbaglio Ma nella seconda Ho vinto 9 a 0 C'è È assurda Sta squadra Adesso infatti Magari vi starò Vagendo Vedere qualche gol E intanto Vi volevo Come sempre Anche se l'ho già fatto Vi volevo dire Veramente Grazie mille Volevo un attimo Proporvi O meglio dirvi Quali video Usciranno In questo ultimo periodo Perché finalmente Mannaggia la salsiccia Voglio dirlo Stanno arrivando Le vacanze di Pasqua Dopodomani Ci saranno Finalmente Le vacanze di Pasqua Domani ho una verifica Però Trunk Comunque cosa Avevo in mente Di caricare Allora Oggi Martedì Cercherò O meglio Spero di caricare Questo squad builder Poi pensavo di caricargli Un bel pack opening O domani O dopodomani Perché come sapete Il mercoledì E se il nuovo team of the week Dopodomani Vi caricherò Una presentazione La presentazione Di un altro giocatore Fenomenale Che ragazzi Andrò A pingpalare Per i 50.000 iscritti Se ci arriveremo Ma speriamo di sì Comunque tutte le info Per punto Riguardo quel giocatore Le troverete nella presentazione Poi credo di caricare O venerdì O sabato Un po' di citella Per poi Giungere Alla domenica di Pasqua Nella quale Caricherò Le top 5 Paco In Graxos Episodio 2 Quindi mi sembra Una cosa abbastanza tattica Se avete degli altri video Da consigliare O se mi consigliate Di cambiare qualcosa Fate una sapere Scrivendo un commento Dato che continuo A questa moda Di app nana Vi volevo dire Che se siete interessati Io quando ho posto Diciamo posso sbloccare Qualche codice Chiedo ai miei iscritti Appunto Chi appunto Chi vuole usufruire Di questo Mio sbloccaggio Si possiamo così Definirlo E quindi Se siete interessati Se avete bisogno Di sbloccare un codice Scrivete Di avere sbloccato Il vostro codice Scrivete nei commenti Il vostro codice Vi chiedo solamente Di avere sbloccato O meglio di aver utilizzato Prima il mio Come vedete Lo state vedendo adesso Lo screen del mio codice Così in questo modo Ci aiuteremo a vicenda Però ovviamente Ecco io potrò utilizzare Il vostro codice Quando 5 utilizzeranno Il mio Infatti è un po' questa La pecca di app nana Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che Ma soprattutto Spero che la squadra Vi sia piaciuta Se avete intenzione Di utilizzarla Fatemelo sapere Fatemi sapere anche Il vostro feedback Se vi piace o meno Se cambiereste qualcosa O no E detto questo ragazzi Quindi io vi ringrazio Vi ricordo di essere Un bel mi piace Vi saluto E vi dico potente A pala Al prossimo video Bola